Erano mesi che ad Arezzo una baby gang seminava terrore, soprattutto tra i giovanissimi compiendo rapine, estorsioni e furti, vittime soprattutto i minorenni che frequentavano la zona di piazza Sant'Agostino ad Arezzo. Per affermare una sorta di controllo di questa piazza a retina, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un ventenne R e W alle sue iniziali, assieme ad un gruppetto di coetanei e altri ragazzi più giovani, fermava le sue vittime e gli chiedeva denaro. I minorenni venivano solitamente avvicinati con delle scuse e poi si trovavano ad essere accerchiati da più soggetti che sotto minaccia anche di coltelli, tirapugni, colli di bottiglia rotti e altre armi improprie venivano rapinati del proprio telefono o del proprio portafogli. In una circostanza la vittima è stato chiesto del denaro per rientrare in possesso del cellulare macchiandosi così anche del reato di estorsione. In un altro caso la vittima è stata minacciata addirittura con un paletto metallico salvapedoni. Le indagini della squadra mobile di Arezzo con l'ausilio della polizia municipale hanno portato al ventenne un pregiudicato che è stato arrestato. Si tratta di un cantante trap molto conosciuto che sui social si fa chiamare Montana, un chiaro riferimento al noto film Scarface e alla storia del protagonista un gangster Tony Montana. Sui suoi profili era infatti solito farsi immortalare mentre imbracciava armi o mentre maneggiava cospicue somme di denaro, il tutto spesso accompagnato dalla dicitura 5200 codice postale di Arezzo con il chiaro intento di sottolineare il carattere territoriale della gang. Il Tony Montana di Arezzo si trova adesso presso il carcere fiorentino di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.